Festa grana al forno per la schiuzza in compagnia di fascia che ha celebrato il cedean di Trenten dalla rifondazione e nauda sia neve assenta. Una defileda piena di fiori, colori e piumi compagnata dal son della marcia. Rueda fin a tepra dedanta la gesiola dell'ultima frazione fascena. Una cerimonia di forno ha chiamato il metto ai schiuzzi di Aldain, la compagnia di onore di sbarrere a salve. A buon conto a Totperd rappresentanti le bandiere da tutto il Tirol, dal premier, Fodom, Fiem, Salorn, Montagna, Pinè, Egna e Nevato d'Esccia. L'erenza è il suo referente della federazione Ruben Bellotti. La compagnia di fascia è una delle compagnie più grandi e anche mai organizzate del nostro Bund e ha tanti grandi complimenti perché oltre a tutto il lavoro la porta a Nanci quella che è la nostra vera identità tirolesa e quindi è un po' di cuore a tutti i fascioi. Il momento più sentito sulla tutta per i parons di Cesa è stato sicuro il giuramento. Il rituelo che non era più stato celebrato dal 1984 che anche il gruppo era stato metto su in Dodanef. Da questo, uomini e femmini, ha giurato sulla bandiera. Giurano di difenere con loro la partegnuta ai sciutti di fascia e alla cultura laddina, di portare in un senso di partegnuta al popolo laddino, di sia la storia e della coraggio sempre dimostrata a difenere sia a terra da chi che, nel passato, la voleva raggiungere. Fidelità alla nostra gente e alla nostra terra. Per un di tutto questo sentirete il cuore perché altrimenti non è niente. C'è una roba tutta extra che adesso la vita è giù di moda perché è tutta altra ciappote che da già correre da. E se mi è strano che ora da 200 anni che non esistono più e ora siamo buoni di stare in piedi. Al Dianchele, se parla di modo di globalizzazione, non siamo più chi che siamo. E allora ci sono delle associazioni, delle compagnie che mantengono vivo il ricordo dell'identità. Nel Cedean di Trentegni l'estate in c'è l'occasione per inaudere ufficialmente la nevacenta della vella scuola del Forno. La cerimonia o la che Franco Rizzi, comandante della compagnia di fascia, l'ha dato fuori a medagli di riconoscimento a chi che si è dato giù per il gruppo. Bron e Argent per i soci fondatori e tra i medagli di oro consegnati agli ex comandanti Enrico dell'Antonio e Valentino Tagil e a Nino Croce. Sono stolto di essere in Svizzera. Per me vuol dire fare cose che per la mia gente. Si tratta di difendere le nostre tradizioni, quelle che ne ha portato in avanti della storia e che secondo me le ne porterà a modo in avanti se il mondo si mantiene la nostra ragione e la nostra terra come la mantiene nella portata fino anche in sveglia. a Mosega e a Marena. Mi sono chiuso a chiuso a chiuso a fare la stalla, del 98 a 70 anni. Mi ha detto alla mia moglie, ora che adesso mi insegna la mandura di chiuso, non? però la dì, ma è tomato? A via settanta lo vieni, non? Ma è tomato? La dì, con l'età che tu hazi? Dì, guarda di è, fino a ora è la ora come molto, non? Adesso la è ora che fa festa.